Gli operatori del mercato ortofrutticolo di Pulia sono da anni che richiedono al Comune il trasferimento delle attività nel padiglione, sito di fronte agli attuali locali. Ma l'amministrazione si è sempre dimostrata reticente a questa richiesta. Incuriositi dalla vicenda, abbiamo perlustrato il padiglione e la struttura del mercato in genere, e abbiamo scoperto che in fondo il Comune sa già come utilizzare, in modo tutt'altro che a norma, la struttura da cui le circa 60 famiglie dei lavoratori saranno sfrattati. Il mercato, come potete vedere dalle immagini, è un vero e proprio magazzino comunale, con tanto di scenografie e costumi teatrali, cartellonistica delle mure urbane, lastre e pavimentazione del centro storico, segnaletica verticale, tettoie spezzate, panchine, parti del presepe di Piazza San Michele, sacchi pieni di chissà cosa, un ammasso di biciclette e montagne di sabbia. Per non farci mancare nulla, il mercato funge da vero e proprio garage per i mezzi della protezione civile. Ma ancora, nell'unico passaggio coperto, materiale inerte, circondato da transenne di indubbio valore protettivo. Tubi di Eternit notoriamente aboliti dal mercato per la presenza di amianto, materiale altamente nocivo, e tubi che ostruiscono la rampa adibita ai disabili. Il degrado è evidente, forse il comune, prima degli operatori, dovrebbe sgomberare un luogo nocivo ai cittadini e alla sua immagine.